24 con 8, allenatore signor Mondoico, a disposizione numero 22 Casazza, numero 2 Cudini, numero 3 Mercuri, numero 7 Ficcadenti, numero 13 Asta, numero 15 Tricarico, numero 21 Parente, Ternana, 12 Fagli, 4 Mayer, 6 Onorato, 7 Baccin, 8 Sesia, 9 Bordobello, 10 Grabbi, 11 Monetta, 18 Bellotto, 23 Silvestri, 25 Fabris, allenatore signor Cucurendo, a disposizione 22 Fiorentino, 5 Stellini, 13 Grava, 15 Ferrazzoni, 20 Pipari, 21 Cento, 24 Camorani. Un cordiale prevenuto riguardo al direttore di gara, sui collaboratori e ai graditi ospiti del Torino, augurandoci di assisto corretto e comandare scritto contro con Cistano. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti